In un pomeriggio, gli ultimi tre mesi almeno, la samba è come stare al cinema, a vedere uno di quei film che non sai mai come può andare a finire. Oggi è finita così, la samba all'immobiliarista nato ad Atri, ma romano d'adozione classe 1963, Roberto Renzi. Già, cognome pesante, è una signora offerta per ripigliare per i capelli il club rosso-blu e farlo restare in serie C, 540.000 euro. Il prezzo è giusto, alle 18.33 di un pomeriggio di caldo e nuvole, il signor Renzi arriva e gli basta alzare un dito. Facile, no? Kim Dae-jung si è fermato a 520. Spettacolo puro il suo arrivo in riviera, in ritardo, fermi tutti, l'asta non può mica cominciare senza di me. Scende da un macchinone nero, un saluto, la folla applaude. E qui apriamo parentesi. Sentire acclamare il socio di Domenico Giuseppe Serafino, 11 mesi di presidenza in rosso-blu e quasi 2 milioni di debito sportivo prodotto, Beh, insomma, fa un po' specie. Ma Kim Dae-jung, che dunque esiste, resiste il tempo di un rialzo. Finita andata, San Benedetto l'ho aspettato un anno e in un attimo, puff, si torna a casa. 10 ore di volo dalla Florida per niente. La Samba è di Roberto Renzi, sciarpa al collo, subito e anche qui calma. 5 sprofondi in 27 anni dovrebbero aver insegnato ad andarci piano. Ecco, appunto, freniamo. Adesso viene il bello. La Samba è un salasso da almeno 3 milioni per evitare di ripartire dai dilettanti. Se Serie C sarà, lo vedremo presto, scadenza dopo scadenza. E allora comodi in poltrona, il Cinema Samba promette altri spettacoli. Grazie a tutti.